ma facciamo un passettino indietro. I social media fail possono impattare sulla reputazione, ma spesso il web ha una memoria corta. Tolto il caso delle scarpe dello stupro, lì la stanno ancora pagando e non ci dispiace per niente. In generale, se le vostre commissime, il vostro giornale, qualsiasi cosa, fosse attaccato per un determinato fail, anche io la prima volta, il mio percorso è durato un anno e mezzo con i flame, però poi è finito anche quello. Se finisce il flame su un'azienda che ha delocalizzato, vi assicuro che finiscono anche quelli sui calzini bucati, quello sul refuso sul titolo, quello col link sbagliato, quello col video sgranato, se finisce quello, finisce tutto, finisce. State tranquilli che il giorno dopo ci sarà già qualcun altro sotto attacco.